Sfinge Pizarro per arrivare in zona cross, Pizarro pala in aria, Rize, rete, Rize la Roma in vantaggio! E lì si vede che non c'è un difensore, c'è Candrema su Rize e la palla di Pizarro ovviamente è straordinaria, ancora di più merita la palma di migliore in campo e Rize poi sembra un attaccante nato perché riesce a trovare il secondo palo, complimenti davvero alla Roma.